La Germania vuole rendere la UEFA il più grande evento sportivo sostenibile della storia. Ma chi se ne frega è marketing! Cioè, è marketing! Ma dove si è andata a pescare queste notizie? Vogliono ridurre le emissioni totali di circa 347 migliaia di tonnellate di CO2, equivalente praticamente alla riduzione di oltre il 90% rispetto all'ultimo mondiale. Marketing! 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 Allora, la Germania che cosa fa? La Germania dice che la UEFA 2024 sarà la UEFA più green del mondo. Ma chi se ne frega è marketing e pubblicità! Ma tu non hai capito niente? L'europeo del 2024 organizzato in Germania non c'entra nulla. Il fatto che uno faccia un evento sportivo mondiale, ecosostenibile, guardando al green e riducendo le emissioni di CO2... Ci cambia la vita! Ci cambierà la vita, non ti preoccupare!